Con Principe di Piemonte Brut è facile indovinare la serata, anche quando si sbaglia a giorni. Principe di Piemonte Brut, e la sera prende vita. Principe di Piemonte Brut. Principe di Piemonte Brut. Così avventurosi, eppure così tranquilli. Voi, decisi e rigorosi, eppure così torci. Voi uomini, il vostro whisky, così simile a voi, così unico. Intenso, deciso, sicuro. Johnny Walker, whisky per davvero. Torrone per Migotti, presenta. Ci risiamo. Guarda un po' come si è vestito. Ma allora non ha rispetto per nessuno. Oppure no? Stai a vedere che ha messo la testa a posto. Sì, Peppone. Come va con il sindaco? Avete litigato ancora? Ma certo. Terence Hill è diventato Don Camillo. Povero Peppone. Terence Hill, Don Camillo. Sabato, le 20.30 a casa vostra, su Carri 5. Gaspare Zuzurro, Gigi Andrea, Brigitte, Lorella, Pippo. I magnifici sette del varietà più vero della settimana TV. Questa settimana i numeri uno del 1987. I numeri uno della satira. Dello sport, della musica, del cinema, dello spettacolo. Vai sul sicuro. Comincia bene il weekend con Festival. La festa dello spettacolo. Venerdì alle 20.30 su Canale 5. Siete pronti per la Gran Tombola Motta? Stasera fino alle dici e mezza vi dirò i numeri astrati. Ah, mi raccomando, leggete bene le istruzioni. Perché se anche non fate tombola, a Natale potete vincere 500 milioni. Motta. La dolcezza di stare insieme. Hai fatto il giro delle stagioni nel paese delle emozioni. Nella terra dell'avventura, dove oggi bianca è la natura. Anche l'inverno qui è speciale. Vieni a vivere un grande Natale. Fra gente forte, sincera, cortese. Vieni con noi, nel grande paese. Buon Natale e felici feste a tutti. Dal Malboro Country. L'intensità del momento. La forza del ricordo. Aria. Missoni. Un dito sul play e si scatena la fantasia dei videoregistratori Digital Fine Mitsubishi. Immagini impeccabili. Uno slow da brivido. Un fermo immagine che paralizza. La tecnologia Digital Fine è dirompente. Immagini da vedere e rivedere sui nuovi video e tv color Mitsubishi. Mitsubishi. Mi stupisci. Voi uomini, così uomini, così avventurosi eppure così tranquilli. Voi, decisi e rigorosi eppure così torci. Voi uomini, il vostro whisky così simile a voi, così unico. Intenso, deciso, sicuro. Johnny Walker. Whisky per davvero. Siete pronti con la cartella della Gran Tombola Motta? Ecco i primi due numeri. 24 87. Controllatele subito. Tra poco, altri due numeri. Galletti Vallespluga. Facili da cucinare. E a tavola la scelta non si impone. Petto e coscia ogni porzione. Ma non è galletto Vallespluga se non ha l'inconfondibile scudetto rosso. Per risolvere i piccoli imprevisti di tutti i giorni. Spear 2000 Black & Decker. Un aspirapolvere a batteria ricaricabile. Senza filo. Potente. Veloce e maneggevole. Sempre pronto. Pulire è più facile con Black & Decker. Gli aspirapolvere. Senza filo. Arroganza me. Arroganza io. Arroganza him. Arroganza us. Arroganza me. Arroganza you. Arroganza him. Come vincere nella vita? Senza un po' di... Arroganza? Tua sinceramente Vecchia Romagna Serata di gala dall'ambasciatore Benvenuti Oh, contessa Signora ambasciatore Ferrero Rocher Delizioso Rocher Classe inconfondibile Così lei vizia i suoi ospiti Eccellenza, come va la vita? Ah, il famosissimo Rocher La fama del suo gusto ha conquistato proprio tu Così va Che raffinatezza il suo Rocher ambasciatore Ferrero Rocher Una scelta di classe Anno nuovo Regalo nuovo Qual è la celebre star Che li avrà accanto a Canale 5? Glenn Graham Il grande whisky di Malto Vi presenta Ehi ragazzi, occhi aperti Arrivano gli UFO Gli ET Gli extraterrestri Dallo spazio infinito Un'infinita voglia di vita Dai Vieni anche tu Che la forza sia con voi La forza questa volta si chiama Cocoon Arriva TV Mercoledì alle 20 e 30 Sul canale schermo Di Canale 5 Parlo! È suo questo capolavoro? Sì Licenziato! Vuol fare l'artista Fa un Pandoro Bistefani A forma di Babbo Natale Tutto ricoperto di soccolato E due bombone Al posto degli occhi Come si fa a capire Che è un Pandoro? Non ne venderemo uno Pronto chi? Le piace il Pandoro Babbo Natale? Ne ne mandiamo Quanti ne vuole? E chi era? Babbo Natale! Licio Gassato O Ferrarelle Tanti auguri Efervescenti Maximilian I Secondo A nessuno Mossa Anastasia E tu ha senso? Non ho senso Dalla colgate palmolive ABC lavatrice E concentrato Rende di più Ti dà un grande pulito Anche il numero di lavaggi è uguale Il prezzo? Risparmi fino al 25% Scegli ABC Rende di più Ancora due numeri Per la gran tombola motta 88 61 A più tardi Per altri due numeri Video registrazione Itachi Tutta la forza Tutta la sicurezza Tutta la semplicità Itachi L'alta tecnologia In casa vostra Victor Club Un'ora di libertà Momenti straordinari Intensi Decezione Victor Club Per riservare a se stessi Momenti eccitanti A shout A blast It's a flight It's a fall A face in your crowd It's having it all It's making a date It's the time of the day It's a rip It's a war You got something to say Just how you feel And you know It's real You can't be How it feels It's a cult Cause the color is it Asti Cinzano Il segno della festa Andoro Bauli Più soffice E buono Entra anche tu Nel Natale di Bauli Un amore Può vivere nove settimane Una notte Qualche anno La loro passione Vive per sempre Perché è il più indomabile Di desideri Il più scandaloso Dei sogni Maggie e padre Ralph La loro storia Consumata tra delirio Ed estasi È una rosa Che cresce tra i rovi Una rosa Che non appassisce mai E fiorisce senza fine Torna uccelli di nuovo L'amore più grande Su canale 5 Ecco gli ultimi due numeri di oggi Per fare gran tombola motta Buona fortuna 27 90 Ci vediamo più tardi Per il controllo finale Creare un profumo Per la donna moderna È emozionante La donna d'oggi È un personaggio complesso Forte E fragile Misteriosa E appassionata Per questo ritratto Ho immaginato Nino Cerruti Pour femme Un parfum Pour l'âme Brown Multipratic Il grande Impasta Ok Brown Multipratic Sminuza Centrifuga Affetta 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 Monta la panna Impasta Sminuza Centrifuga Affetta 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 Monta la panna Impasta Sminuza Centrifuga Affetta Affetta Ok Bravo Brown Multipratic Tutto presto Tutto bene E passiamo ora alle previsioni del tempo Tesoro non vieni a casa? No Peccato Indovina che cosa ti avevo fatto La pasta e i fagioli Con il dadok nor Mia moglie mi ha fatto la pasta e i fagioli Ma cosa sta dicendo? Con il dadok nor Ne valeva la pena eh Dadok nor Ha un sapore così Non si resiste Ciao Paola Ciao Carla Ciao Carla Oh qui i detersivi per i piatti sono tutti verdoni Difficile scegliere Vabbè io c'ho il mio amico Il tuo amico? Ma sì Svelto il mio amico per i piatti È un po' caro però Caro? Il mio svelto Vedrai invece Intanto di svelto ne basta un cucchiaio Ma è concentrato Però quanto schiume L'hai visto? Morbida È delicata Ehi ma svelto con così poco Ha liquidato l'unico Sì amico come svelto ce n'è uno solo Questi i numeri di stasera Controllatevi Vi ricordo che se fate il grandombo la motta Basta una telefonata per poter vincere 50 milioni O una lanciatena A domani Tua moglie ama la Rolls o la Ferrari? La Ferrari Provocation Provocation Tuo merito è un rosso o un verde? Un verde! Gli piace prendere aria Ehi a che gioco giochi? Provocation Ma con eleganza Winchester The Original Pronto per l'aggancio Passo Seven Six Five Four Che succede? Allarme ufo Schermo grande presto È incredibile È un videoregistratore No Un videoregistratore che si aggancia a un televisore Fantastico! Un pezzo unico Aggancio perfetto Bob Ma non il tuo TVR Recruiting Un pezzo solo è meglio Hai mai notato che Molte delle cose migliori della vita Sono nere Champagne pomerì La perla nera Un grande regalo Per chi ha visto nascere E per chi vuole conoscere Gli anni più belli della musica La leggenda degli Eagles Per la prima volta 14 titoli leggendari Raccolti in compad disc Album e cassetta La leggenda degli Eagles Il sogno della West Coast Per il Natale più bello Nel magico Luna Park di Canale 5 C'è un'attrazione in più È la giostra di Enrica Saltaci su Gira con Pippo Gira con Mike Con Sbirulino Con Umbro La SPAC Lì c'è Gianmarco Un giro Due giri Quanti giri ti va La giostra è ok Per tutte le età Nonni Boys Mamma E papà Domenica Gioca in famiglia Gira la giostra Domenica Dalle 14 A casa tua Su Canale 5 Facciamoci con Paoli Facciamoci Con Paoli E così Paoli Paoli Che festa Paoli Paoli E come noi Andoro Andoro Paoli Più soffice E buono Entra anche tu Nel Natale di Paoli È potente E insieme delicato Perché è liquido Nuovo Biopesto liquido Per lavatrice Bianco Morbido Denso Come nessun altro Io presto liquido Per dissolvere lo sporco E darti il bianco ideale Biopesto liquido Per sciogliere le macchie Fibra per fibra E accarezzare dolcemente I tuoi colori Nuovo Biopesto liquido Per lavatrice Un'ondata di pulito Fino al cuore Delle fibre Delle fibre Or a happy day Or a happy day When Jesus won When Jesus won Oh When he won When Jesus won When Jesus won I tuoi colori I tuoi colori I tuoi colori Ti ci mettono i fiocchi Di mandorle E zucchero Poi ci vanno le cartoline Per vincere tanti viaggi E poi E poi c'è Natale E il mandorlato balocco Ce lo mangiamo noi Mandorlato balocco La più buona magia di Natale La suggestione di un gesto Di un profumo Di un indumento Che scivola lentamente Sulla pelle La sottile provocazione Di una bellezza ambigua Che accende l'immaginazione Fino a dove Possono usare i sensi Fino a quando Può durare il gioco Della seduzione Qual è il limite Della trasgressione Un eccezionale reportage Svela i segreti Dell'Eros Con fantasia Tra poco Su Canale 5 Questo programma È offerto da Samsonite Le belle valigie Che durano Ehi ragazzi Troppo belli Esagerati Dai dai Che su c'è il sole Via che si va Ma guarda chi c'è Ah Vieni anche tu Su Facciamo pace Ok Pace Tecnica Un mondo di sport Vieni a sciare No aspetta un po' E tu? Oggi sto con te Tecnica Un mondo di sport Brown Mini Peamer Brown Mini Peamer È pronto in cucina Lo stacchi E fa la maiodese Ok Brown Lo lavi E fa la tartare Ok Brown Lo rilavi E frulla il frullato Ok Brown E lavora anche a caldo E lavora anche a caldo Direttamente in pentola Ok Brown Brown Mini Peamer Cucina facile Cucina svelta Fantasie Borsari Dolci speciali Come la tua festa Borsari Una festa Ben riuscita Levante Il collante Peccato coprirli Occhi per Luisa Boccatini per Marina Maccheroni per Annie E per Veronica Tagliatelle Da quando gli hanno regalato Pasta Matic Francisco non ha più Un attimo di libertà Pasta Matic Un regalo così Può cambiarti la vita Pagliatelle 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 Fu piaza Molte Una festa in Pagliatelle Pagliatelle Un poggerita L house Le Superare il limite Superpila va oltre se stessa Nuova Superpila extraforte Grande durata Victor Club Un'ora di libertà Momenti straordinari Intensi Decezione Victor Club Per riservare a se stessi Momenti eccitanti Asti Cinzani Il segno della festa Quando le gengive si fanno sentire è un segno di pericolo per i tuoi denti Agisci con AZ15 il dentifricio medicato specifico per gengive AZ15 grazie al suo potere disinfettante combatte la placca batterica mentre i suoi principi attivi leniscono in profondità i tessuti gengivali lasciandoti un'intensa sensazione di benessere così aiuti le gengive a mantenersi forti e sane AZ15 il momento di cura delle gengive che assicura il futuro dei tuoi denti AZ15 il gengi dentifricio dalla ricerca AZ Piave cuore del distillato la nostra acquavite di cuore come noi c'era una volta una brava ragazza che d'improvviso la vita tradì lei precipitò ma era una gatta e la gatta cade in piedi tira fuori le unghie e astuta fulminea furtiva il silenzio risale un amore può vivere nove settimane una notte qualche anno la loro passione vive per sempre perché è il più indomabile di desideri il più scandaloso dei sogni Maggie e padre Ralph la loro storia consumata tra delirio ed estasi è una rosa che cresce tra i rovi una rosa che non appassisce mai e fiorisce senza fine torna uccelli di lupo l'amore più grande su canale 5 I wish I had a doubt for you Each time I took a chance Knowing that you fall in love was upon a town Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti ma alberi alberi infiniti Quando sei qui vicino a me questo soffitto viola No Non esiste più Io vedo il cielo Tenero risveglio Con Joelle Joelle Langerie da notte Buone feste Buone feste a tutti Auguri Dai negozi semaforo Buone feste a tutti Buone feste a tutti Buone feste a tutti Hai mai notato che molte delle cose migliori della vita sono nere? Champagne pomeriggio La perla nera Cos'è? Cos'è? È tardi Chi è quel profumo nell'abito? Finalmente Coco Presto Ci prendiamo l'obbligato Vino Mamma È Coco Ci prendiamo insieme Una sera Coco Mi fa morire L'aria vive Ecco una donna Che ti toglie il respiro Dammi ancora un po' di te Coco Giovedì è gioco E tu hai questo senso Monosenso 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 Per un grande Natale in musica Gli zoom umani vanno avanti e indietro cercando di fare le foto che vogliono Ora Pentax mette fine allo zoom umano con la nuova Pentax zoom 70 La prima compatta al mondo con obiettivo zoom motorizzato Tutto quello che devi muovere è il tuo pollice Così tu puoi fare questo 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 e anche questo Metti fine allo zoom umano Prendi la nuova Pentax zoom 70 e fai le foto che vuoi Prendi la nuova Prendi la nuova Tom Berenguer L'erede di Newman Attore vincente nel grande freddo Marmoreo Marin in Platon Ora Diabolico Brillante Imprendibile Geniale Affascinante Complice Della Gatta Domenica alle 20.30 Su Canale 5 Ho creato il mio profumo come un'aria d'opera Mon parfum Paloma Picasso Che grinta Che cos'è? Andiamo a vederla Buongiorno Ma questa è è la Renault 21 2 litri turbo 175 cavalli 227 km all'ora Doppio intercooler Gestione elettronica integrale Renata a Bess? Certo Ella Virazen Renault 21 2 litri turbo Nessun E' più turbo Nessun Grazie a tutti.